Vai Lulù! Vai Lulù! Vai Lulù! Vai Lulù! Vai Lulù! Vai Lulù! E' la prima ripresa dell'incontro Teffo-Gabrila, si preparino sacchi corso. Vai Lulù! Ora sotto eh! Posta bene. Ok? Vai! Parti te, coperta! Brava! Brava Lulù! Brava Lulù! Chiudi il braccio! Chiudi il braccio! Prometzioni ! Vai Lulù! probiotico. Chiudi il braccio? Grande Lulù vai! RISCHEL CONordre! Vai Lulù! Vai! 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 Vai il ginocchio adesso! Così, dai! Sotto, brava! Vai! Vai te, eh! Così, dai! Vai, vai! Brava! Sotto! Ok? Ok? Vai! Vai! Pfff! Oh... Brava! 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 E la seconda ripresa, si preparino Sacchi e Bosso E la seconda ripresa, si prepara la scuola e la seconda ripresa, si prepara la scuola e la seconda ripresa. Vai Lu! 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 Fine della seconda ripresa, si prepara la scuola e la terza ed ultima ripresa. Vai Lu! Vai Lu! Vai Lu! Vai Lu! Vai Lu! Vai! Vai! Sulla guarda! Vai! Vai! Non passare dentro! Non passare dentro! Dai! Continua! Vai! Viste braccia! Vai! Continua! Dai! Dai! Vai Lulù! Dai! Viste braccia! In faccia e attirate! Arriva il primo! Vai! 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 Vai Lulù! Vai Lulù! Vai! Vai Lulù! 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 dai dai vive nell'incontro i 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